Ragazzi, allora, buona giornata a tutti, buona giornata a tutti. Piccola premessa, ieri sono entrato ufficialmente nella Juvengers Crew, ok? E intanto vi invito anche a iscrivervi ai loro canali, Gianni Bianco, Luca Totti, scusate ma non me li ricordo tutti, nel senso che io ho una memoria proprio del cazzo, Spagacalcio Pirata, Il Ritorno di Alex, Frank Asso, Atrick Boys, Pix, Messia Bianconero, Massimo Marchese e poi anche l'Angolo di Lady B che è un canale extra calcio, che più o meno vi dico anche un po' gli appuntamenti, di solito ogni giorno a mezzogiorno e mezzo c'è un video premiere di Atrick Boys, poi da lunedì, mercoledì, lunedì, mercoledì e venerdì c'è la live del Tridente Bianconero, quindi vi invito anche a iscrivervi al loro canale, con appunto Gianni, Luca, ma poi entriamo un po' tutti, alle ore 12.45, poi in teoria da lunedì, cioè lunedì, mercoledì e venerdì dovrei fare le live io alle 15, dato che c'è uno spazio lì, alle 19, 18, 19 in teoria Spagacalcio Pirata, alle 18 ogni giorno l'angolo di Lady B ovviamente che è extra calcio e poi la sera dipende, giovedì di solito c'è appunto il processo degli U-Angers, quindi comunque è questo un po' il programma, poi ci sono le pennellate di Gianni Bianco, il venerdì se non sbaglio, comunque è un po' questo il programma, adesso non so se mi sono dimenticato qualcosa, sì, martedì e giovedì, alle ore 15 c'è Torre Bianconera con Atrick Boys e sabato c'è il buono e il brutto cattivo sempre sul canale di Atrick Boys alle ore 15, sempre. Quindi questo è un po' il programma, spero di essere stato chiaro. Poi, piccola cosa, siccome ho già visto che comunque suonate polemiche, avevi detto che non saresti mai entrato più nelle live, allora io ho detto ieri, una cosa che era inerente a me stesso, non ho detto che non sei mai entrato nelle live per colpa degli altri, proprio perché so il mio carattere. Poi, ieri quando Luca mi ha contattato, ho detto, ma guardate, allora, la prima volta, dissi di no un mese fa perché avevo anche le live sull'altra piattaforma e poi ho sempre detto, sono onesto, nei gruppi ho visto che molte volte succedono casini, nel senso che io ho un carattere molto difficile e me ne rendo conto ed è per questo che inizialmente avevo rifiutato. Poi ho detto, ieri, sì, ok, va bene tutto, ma non è un discorso del crescere o non crescere, di rimanere a soli o quantomeno, o questo o l'altro, perché tra l'altro, comunque, negli ultimi due o tre anni sono sempre rimasto a solo, dopo che mi sono distaccato appunto dai ragazzi del processo lunedì, con Dello e tutti gli altri. Non è quello il problema. Il fatto è che comunque, al di là che comunque sono sempre nel live loro o tramite chat, nel live, che comunque parliamo, ogni tanto discutiamo e quant'altro, avevo detto quella cosa lì ieri, semplicemente perché ho detto, cazzo, io non posso comunque insultare, anche se sbagliano gli altri, a provocare, a sminuire le mie opinioni. Non posso partire sempre in quarta. Ed è per questo che poi ho detto, passo io sempre per quello che fa la figura del cazzo, ok, da pezzo di merda, e quindi evito. Ieri però, quando mi ha chiamato Luca, ho detto, sì, però, va bene tutto, va bene tutto, però se argino il problema, non lo risolverò mai. Quindi, devo fare un lavoro, ok, su me stesso, e questo è il quanto. Ecco perché ho accettato. Al di là che, appunto, mi trovo bene con loro e quant'altro, al di là delle discussioni che poi sono molto accese, ci mandiamo a fanculo e va bene. Però, a direi questo, ieri sì, tra l'altro abbiamo fatto una live da Trick Boys, nella quale ci siamo divertiti un po' tutti, isolato un po' dal calcio ieri. Comunque, detto questo, era giusto fare questa piccola premessa, siccome vedo già polemiche, anche per quello ero molto titubante sull'accettare il secondo invito, però, ho detto, ragazzi, insomma, per una volta ho detto, me ne frego il cazzo dei giudizi degli altri, penso a me, penso a quello che mi piace fare a me, e basta. Non mi interessa un cazzo di giudizio di chi, tra l'altro, non ci mette neanche la faccia, no, quindi non mi interessa. Detto questo, allora, la Juventus di Pirlo, la Juventus di Pirlo, con la rosa che abbiamo e con l'eventualità o l'eventuale arrivo di Awar, come potrebbe essere questa Juventus? Allora, la Juventus di Pirlo, io credo che al di là del 3, del 4, del 4-3-3, del 3-5-2, del 3-4-1, bisogna vedere gli interpreti, perché poi con certi interpreti puoi giocare, puoi cambiare il sistema di gioco durante le partite in varie fasi, fase di possesso, fase di non possesso, fase di transizione positiva o negativa, ok? Quindi, che sarebbe fase di contropiede o ripiegamento, ok? O ripiego, come volete chiamarla. Comunque, allora, gli interpreti per la Juventus di Pirlo, secondo me, calcolando e valutando magari i giocatori al massimo delle condizioni, però, levando quelli che sono infortunati cronici, ok? Sui quali non si può puntare, purtroppo. Allora, sapete bene, vabbè, adesso arriviamo anche al centrocampo, però partiamo. Io, adesso, partirei con Scesni, va bene, torna Alexandro. Io a questo punto farei rifiatare Quadrado e metterei Danilo come terzino bloccato a destra. Bonucci e Chiellini sono fuori, quindi in questo momento metti Delete e Demiral per forza. E poi, Alexandro a sinistra, che dovrebbe, dovrebbe fare il terzino fluidificante, il terzino di spinta, il terzino, quello che volete, ok? Comunque, quel tipo di terzino. A centrocampo. A centrocampo, perché qualcuno dice giochiamo a due, ma, se noi mettiamo Ramsey, no? Vediamo sempre Ramsey messo la trequartista, che è una stronzata, perché non ha mai fatto trequartista quest'anno. Fa la mezzala di inserimento, la finta mezzala, perché poi in fase di non possesso fa quel lavoro lì, ok? Come l'ha fatto McKenney quando è stato messo lì. Quindi, sta il fatto che noi giochiamo a tre. Abbiamo giocato solo una volta a due. Una volta in maniera pura a due, che è stato contro Barcellona, è stato massacro, ok? Quindi, giochiamo a tre, a centrocampo. Io su Ramsey, purtroppo, ho delle grandissime riserve, devo essere sincero. Le grandissime riserve. Purtroppo, io, fino a gennaio, fino a gennaio, quando magari, speriamo, arriverà a Warr, speriamo, speriamo, io proverei Kluisesk al posto di Ramsey. Proverei McKenney al posto di Arthur e Bentancur davanti alla difesa, perché sapete benissimo che per me Bentancur è il giocatore con le caratteristiche migliori, però McKenney per me è anche più intelligente di Bentancur. Quindi, qualora migliorasse anche sotto l'aspetto della fluidità di gioco, per me sarebbe lui da mettere davanti alla difesa, come, appunto, quello che vi dico, il mediano incontrista davanti alla difesa e non per forza la ricerca di questo cazzo legista. Arthur a me non dà sicurezza. Poi, magari migliorerà a 23 anni, migliorerà, e magari migliorerà anche la fase di non possesso palle, in fase di ripiego, magari, qualora migliorasse quello, Arthur potrebbe prendersi il posto a titolare davanti alla difesa. Qualora migliorasse, appunto, anche, appunto, la fase di interdizione, la fase da incontrista, diciamo, no? Perché il fisico ce l'ha, il fisico ce l'ha. Come riesce a non farsi togliere il pallone quando ha il pallone, potrebbe anche usare questo fisico, appunto, per, insomma, aiutare la difesa, no? Tornando su Kuluseski, Kuluseski è un giocatore contropiedista, per questo io dico che, ragazzi, abbiamo una squadra fatta per un allenatore che vorrebbe imporre il proprio calcio, come era per Sarri, ma abbiamo una squadra costruita sui contropiedisti, perché abbiamo Kuluseski, perché abbiamo Chiesa, perché abbiamo lo stesso Rabiot, Rabiot è un giocatore che ha spazi aperti, dà. Quando lui si trova a spazi chiusi, Rabiot trova grossissime difficoltà, grossissime difficoltà. È un giocatore normalissimo, Rabiot. A me non piace, per me è un giocatore non da top squadra, non da top club. Vabbè. Comunque, questo dovrebbe essere il centrocampo, siccome è in questo momento, perché Kuluseski comunque ha più inserimenti di Rabiot, anche l'ultima giocata. Quindi, allora, io, Ramsey, qualora Ramsey stesse bene, metterei sempre Ramsey, però non puoi fare affidamento su un giocatore che, anche se non si fa male, a un certo punto va fuori condizione. Capite? È stessa cosa per Costa, no? Anche se Costa io l'avrei tenuto, piuttosto di darlo in prestito secco. Avrei dato in prestito secco Bernardeschi, non Costa, no? Quindi, il centrocampo per me dovrebbe essere questo in questo momento. Kuluseski, McKennie, Rabiot, ok? A parità di condizioni fisiche, per me dovrebbe essere questo. Kuluseski lo metti là fino a quando non arriverà Awar, perché quando arriverà Awar, per me, il centrocampo dovrebbe essere questo. Awar, ovviamente, non sarebbe un centrocampo top a livello mondiale, però con i giocatori che abbiamo adesso, faccio questo ragionamento. Awar, McKennie, Rabiot, ok? Adesso che non è Awar, Ramsey è più fuori che dentro, metti Kuluseski. Anche se McKennie è un giocatore che si inserisce molto, ma noi vediamo anche Casemiro, che gioca davanti alla difesa, che comunque si porta davanti, va davanti comunque, e ripiega molto bene. Quindi, quest'anno un po' meno, però, stai fatto che comunque, ovviamente, quel tipo di giocatori lì, deve avere due giocatori forti a livello di tecnica di fianco. Ora, B.O. per me non è così forte. Awar per me ha più personalità, ed è un giocatore che, secondo me, anche può aiutare in fase appunto di ripiego, perché ha dimostrato anche contro i noi, contro il City, di rompere il cazzo come giocatore a livello fisico. Cioè, non è alto, non è possente, però, contrasta, non ha paura, si butta. E per un giocatore di qualità non è scontata la cosa, perché, di solito, o sono giocatori di qualità, o sono giocatori che non hanno i piedi, ma basano tutto sull'agonismo. Awar, invece, per me è un gran bel mix, per questo io lo prenderei. Sento parlare di Zoboslay, la, come si chiama, di Kamavinga. Non li ho visti, io guardo e giudico chi ho visto. Awar l'ho visto, non dico che quelli siano scarsi, o più scarsi di Awar, però io ho visto Awar, ok? Ho visto Depol, questi giocatori qui, quindi, dovessi scegliere, sceglierei questi due, in questo momento. Uno di questi due, ovviamente, se Awar non può arrivare, prendo Depol, faccio un esempio. Perché ha le caratteristiche, anche lui, molto simili. È un giocatore che dribbla molto, un giocatore che si butta dentro, il giocatore... Cioè, ok, Depol è argentino, Depol è comunque un giocatore che non ha giocato a Champions, ecco perché prenderei Awar. Non Locatelli, non Locatelli, ragazzi, non Locatelli. Perché può giocarvi mediano, può giocarvi mezzale, dove volete voi, ma con Locatelli non si va da nessuna parte. Ripeto, come ho detto ieri, né ora né mai. Come non si andrà da nessuna parte con Chiesa, né ora né mai. A livello europeo parlo, eh. Perché forse in Italia, forse, forse, forse. Perché, io ripeto, ci sono dei giocatori anche su Berardi, mi sono espresso tanti anni fa. Quando veniva accostato a un eventuale ritorno di Berardi alla Juventus, perché era di proprietà nostra. Insomma, tutte queste cose qua, dicevo, Berardi è un giocatore mediocre. E tutti, no, ma Berardi, ma di qua, ma di là, è fortissimo. Sono Barottelli di qua di là, Cassano di qua di là, poi ho avuto ragione, ok. Quindi, non è per dire, ve l'avevo detto, è per fare lo sbrufone. Però, quantomeno, rispettate la mia opinione, no. O comunque, cercate di essere un po' ambiziosi pure voi. Una volta ogni tanto, ambiziosi. Perché se noi abbiamo delle prove, che negli ultimi 15-20 anni la scuola calcio italiana non ha tirato fuori un calciatore decente, e decente dico campione, cazzo motivo c'è, perché Berardi non lo è. Perché, ragazzi, Berardi non è un campione. Gioca al Paris Saint-Germain, che non è, per me, una top. Solo perché ha tre fenomeni davanti. Barcellona e Ramadrino l'hanno cercato, no? Chi è che è uscito? L'unico potenziale poteva essere Zaniolo, che avevo qualche riserva anche su Zaniolo, io? Barella viene esaltato, anche lui, Barella, che dimostra comunque molta immaturità. Cioè, non è per sminuire tutti i giocatori italiani, ma bisogna veramente... Cioè, basta che qualcuno esca con un minimo di qualità e lo si pompa. Poi, dopo qualche anno, sparisce dai radar delle top europee, o comunque del calcio che conta, ok? E ci si chiede il perché. Perché si è andati troppo veloci. Prima con i giudizi. Prima con i giudizi. Ok? A livello positivo, soprattutto. È meglio andare con il freno a mano tirato, prima, e poi magari avere una bella sorpresa, piuttosto che pompare un giocatore e distruggerlo, poi dare ulteriori pressioni social, mediatiche e quant'altro, al giocatore e poi domandarsi il perché è sparito. Perché comunque i giocatori italiani, ragazzi, hanno zero personalità, lo ripeto. Barella, Zaniolo, Immobile, Berardi, Chiesa. Sono giocatori senza palle, senza personalità. E qualcuno mi dirà, sì, ma non lo puoi sapere perché non... Ragazzi, io ho questa sensazione qui. Perché ho avuto già le prove con altri giocatori italiani che venivano pompati e che mi venivano dette le stesse cose che adesso mi vengono dette perché io dico una cosa su Locatelli o su Chiesa. Le stesse cose. Ma no, ma cosa vuoi? Devi dare tempo, fiducia. I giocatori forti e con personalità si vedono già vent'anni. Vedasi De Litt. Vedasi De Litt, sì. L'anno scorso, l'anno scorso, a parte i primi mesi, poi De Litt è diventato un leader, non della difesa, della squadra. E adesso si sente la mancanza di De Litt. Capite? Comunque questo, per quanto riguarda il centrocampo, quindi Kulusevski, McKennie e Rabiot, per il momento, fino a quando, e si spera, non arriverà a Ward. E lì davanti, lì davanti, un bel rebus, perché purtroppo hai Chiesa, non hai Costa, non metti Berdandeschi. Di Bala è perso ormai, secondo me anche a livello tattico, negli ultimi anni è stato un disastro, con Pirlo, con Sarri, sì, con Allegri, con Sarri, e adesso con Pirlo, quindi un motivo ci sarà. Con l'Argentina, quando viene convocato, non gioca, ma Messi, sì, ma allora, per un motivo o per l'altro. Martinez gioca, ma Martinez, allora, un giocatore che è forte, che è un potenziale campione fuori classe, quello che volete voi, lo spazio lo trova. Lo spazio lo trova per forza. Ok? Bene. E quindi lì davanti, io penso che in questo momento, qualora mettesse, ma non penso che metterà Kuluzeski. Allora, facciamo una cosa, cerchiamo di andare anche incontro a quello che probabilmente farà Pirlo. E in questo momento probabilmente non metterà Kuluzeski lì, anzi, ma contro l'Arzio l'ha fatto, eh. Contro l'Arzio l'ha messo esterno, alla fine, nel secondo tempo, se voi avete notato, quello che non faceva nel primo, nel primo lasciava Rabiot e Bentancourt da soli, a se stessi praticamente, nel secondo tempo faceva quello che doveva fare, quello che faceva Ramsey, cioè, veniva a fare il raccordo tra centrocampo e attacco. Quindi lui può partire da esterno di centrocampo, ma poi fare anche la mezzala aggiunta, la finta mezzala come faceva Ramsey. Quindi quel ruolo lo può fare, l'ha fatto contro l'Arzio nel secondo tempo, l'ha fatto molto bene, è stato levato probabilmente nel miglior momento suo, quando soprattutto partivamo in contropiede. Quello forse è stato l'unico errore di Pirlo, ma non do colpa a lui. Quindi, Kuluzeski può giocare lì, alla fine ha già giocato lì, di fatto. Gli interpreti sono quelli, quindi va bene. Kuluzeski, McKennie e Rabiot, faccio un esempio. Al posto di McKennie puoi mettere Bentancourt o Arthur, quello è in questo momento il discorso. E lì davanti Chiesa, Morata e Ronaldo, questi sono i tre. Questo, per quanto riguarda questo momento. Poi, in posti a tre, con Danilo, De Litte, Demiral, faccio un esempio, va benissimo. Giochi, in fase di possesso, giochi con un 3, 3, 4 o un 3, 2, 5, va benissimo. I numeri, veramente, in questo momento non bisogna basarsi troppo sui numeri. Questi sono gli interpreti con i quali potresti cambiare vari sistemi di gioco durante le varie fasi e le varie parti delle partite, di fatto. Quindi, questo è per quanto mi riguarda. Fatemi sapere la vostra cosa ne pensate, cosa pensate farà Pirlo con la rosa che abbiamo. Qual è la migliore rosa, la migliore formazione che potrebbe mettere Pirlo con i giocatori che abbiamo adesso. Non ho fatto quello che potrebbe essere il Pirlo, perché non ho conto, è farlo con Sarri quando era in pieno mercato estivo. Adesso il mercato è finito, è inutile parlare del prossimo mercato estivo e già quello di gennaio è, a me non piace, adesso parliamo di campo. Quindi, ho citato solo a War, faccio un esempio. Ce ne sarebbero tanti giocatori che si potrebbero citare. Però questo è il quanto, fatemi sapere la vostra, mi raccomando, iscrivetevi a tutti i canali che vi ho detto prima degli Avengers Crew. Fino alla fine Forza Juventus e ci vediamo alla prossima, ovviamente. Ah, ovviamente oggi pomeriggio alle ore 15 c'è in live Atrick Boys con Torre Bianconera. Andate lì e seguite, poi non so se ci sarò pure io, comunque andate lì e seguite la live, mi raccomando. Ciao a tutti! Grazie!